Ci troviamo in Via Fiume, una palazzina Acer che ha subito danni dopo il sisma del 2012 e che sta proseguendo per quello che riguarda le attività che dovranno comportare i lavori. Spieghiamo intanto la storia di questa palazzina, cosa è successo dal 2012 e a che punto siamo per quello che riguarda il futuro dello stabile. L'edificio è stato fortemente danneggiato nel sisma del 2012, ha avuto dei danni a livello strutturale, in particolar modo sulle facciate e sui collegamenti tra le facciate e i solai. Questo ha determinato dal punto di vista della protezione civile una classificazione come E e che in gergo sarebbe la inagibilità dell'edificio. Quindi l'edificio è stato svuotato, gli inquilini che c'erano hanno trovato una nuova localizzazione abitativa e noi abbiamo potuto iniziare le operazioni propedeutiche alla progettazione. Praticamente adesso il progetto è stato completato, è stata bandita la gara d'appalto e sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte. La Commissione sta valutando le offerte ricevute, quindi pensiamo che nel giro di un paio di mesi i lavori possano iniziare. I lavori inizieranno dunque a breve, ma per quello che riguarda le famiglie che occupavano questa palazzina, dove sono oggi e soprattutto però potranno rientrare all'interno di questi stabili? Allora, le famiglie che occupavano la palazzina, queste famiglie è stato offerto un nuovo alloggio. Questo alloggio poteva essere o un alloggio temporaneo in gergo, diciamo in parcheggio, oppure un alloggio definitivo a seconda delle necessità della famiglia stessa. Quindi chi ha scelto l'opzione dell'alloggio temporaneo potrà rientrare nell'alloggio che occupava precedentemente. Chi invece ha scelto una nuova sistemazione definitiva lascerà libero l'appartamento dove prima abitava che verrà riassegnato con le graduatorie. Entrando invece nel dettaglio dei lavori, ovviamente in attesa che partano ufficialmente, insomma, quali saranno le attività che verranno svolte all'interno? Quali sono le norme che oggi devono essere assolutamente applicate per questi stabili che hanno ovviamente una certa storicità? Allora, in questo caso abbiamo un intervento massiccio, un intervento impegnativo. Infatti stiamo parlando di un budget di circa 1.800.000 euro come impegno finanziato chiaramente con i fondi regionali della ricostruzione post-sismica. I lavori riguarderanno sia le strutture che verranno adeguate alla nuova normativa tecnica del 2008, alla normativa tecnica del 2008 che è appena uscita quella del 2018 e verranno anche realizzate completamente tutte le partizioni interne, gli impianti e anche una serie di coibentazioni sempre per garantire la sostenibilità energetica e risparmi energetici più adeguati quelli che sono previsti dalle norme attuali. È chiaro che in questo caso, trattandosi di un edificio storico che è anche una tutela da parte della sovrintendenza, tutti gli interventi sono stati coordinati con la sovrintendenza di Ferrara.